Una festa di Natale davvero ben organizzata e che ha visto protagonisti assoluti i giovani cestisti della Valentino Basket Castellaneta. Valentino Basket Christmas è stato l'evento andato in scena mercoledì 14 dicembre pomeriggio nella tensostruttura comunale. Un appuntamento con cui la dirigenza, lo staff tecnico, i giocatori e tutti gli atleti biancorossi hanno festeggiato il Natale ormai alle porte dandosi l'arrivederci all'anno venturo ricco di successi nello sport e nella vita. È una bellissima festa, quest'anno rispetto allo scorso anno abbiamo un po' cambiato perché abbiamo coinvolto sia le istituzioni civili che le istituzioni religiose. Ne è cambiato anche nei duni che abbiamo dato ai ragazzi perché abbiamo donato un libro, Campioni, che racconta dei fatti da parte dei ragazzi che sono diventati col tempo dei campioni anche nello sport ma anche nella vita. Abbiamo avuto il piacere di avere con noi Domenico Latagliata che è il capitano nonché presidente del basket in carrozzina della squadra di Taranto che con i suoi compagni di squadra ci ha raccontato anche le sue avventure e quello che stanno vivendo nel campionato di Serie B nazionale. Auguro a tutti i tesserati della Valle Tiro Basket ma all'intera cittadinanza buon Natale e un felice anno nuovo sperando che sia pieno di successi per tutti gli atleti della Valle Tiro Basket sia nel campo che nella vita.